Finalmente sono arrivato a fare il match per il titolo d'Italia, una roba che sognavo da quando avevo sette anni e non vedo l'ora, sono carico, c'ho una roba dentro che solo io posso vedere. Questo titolo è veramente molto importante per me anche perché è un inizio. Papparino arriva, quindi preparati. Preparati bene anche tu, Diallino, che presto ci becchiamo. Spero che ci sei mentalmente, che faremo un match proprio come dei campioni. Non vedo l'ora, come non vedrai l'ora anche tu, quindi siamo qui per questo. Grazie a tutti.